L'estate scorsa avremmo accetto un nuovo governo con Terenzi di Mario Zingaretti, perché sono gli allianti servini per la dimissione parlamentare. Adesso volevo andare a votare le elezioni, le elezioni in piena pandemia vuol dire fare aumentare ancora il contagio del coronavirus come per il referendum che non doveva essere fatto. E infatti è stato fatto ricorso al Tare del Lazio. Lo scorso governo era con Di Maio e con te Salvini, sono tutti d'accordo per fare la dimissione parlamentare, adesso vogliono rifare le elezioni per fare la dittatura, fare le elezioni parlamentari sono quelli che vogliono loro. Ma questo a te, ma magari ci saranno i voti anche di qualcuno della Lega, ma andiamogli a casa. Si torna in aula, o ci sono i numeri per il governo in centro-destra, oppure si torna a votare. Io ho l'alternativa a Terracchio che mettono insieme tutto il contrario di tutti. Si torna a votare se aumentano ancora le infezioni del coronavirus, ma andiamogli a casa, questi sono degli responsabili della salute. Poi le prima siete questi capaci e incompetenti che sono al governo del coronavirus, i piani della P2, per diminuire i parlamentari e fare la dittatura. Ma andiamo a casa a Salvini, Meloni, Zingaretti, tutti i fattori del piano della P2. Quindi la nuova P2 del coronavirus. Ma andiamogli a casa, mettiamo noi al prossimo referendum che sarà indetto dall'età del Lazio dopo il ricorso. Ma andiamogli a casa.